Botte tra due gruppi familiari in pieno passeggio Domenicale Gallipolino, motivo del contendere il posto per installare la bancarella, abusiva, per la vendita dei ricci di mare. E' successo intorno alle 20 sulla banchina del seno del Canneto, di fronte alla fontana greca. Sono intervenuti insieme polizia e carabinieri per sedare la rissa, scoppiata tra sei persone, due padri e i rispettivi figli, e in due sono finiti in ospedale per le ferite riportate. La vendita dei ricci per strada è vietata, dunque tutti si sono guardati bene dal raccontare agli uomini in divisa il motivo di tanta violenza, che poco dopo però è stato chiaro. E pare che gli attriti tra le due famiglie andassero avanti da un po'. Tutti e sei saranno denunciati.